perché piangere perché piangere cos'è una lacrima una piccola goccia che scende sul viso quando chi si vuol bene non c'è più perché o è lontano o è di un'altra anche il mio amore non c'è più perché è di un'altra ma perché devo piangere perché arrossare i miei occhi se lei è felice con lui se lei ha trovato con lui quella felicità che io non sono mai riuscito a darle e perché piangere è meglio ridere forse sì ridere tanto essere contenti perché ora il mio amore è felice io anche lo sarò perché chi ama anche se per sé soffre è felice ugualmente quando sa che il suo amore vicino a un altro felice sarà grazie a tutti